Quanto riguarda la stagione, io non ero mai soddisfatto nemmeno quando si vincevano i Scudetti a Siena, quindi sicuramente non sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, nel senso che non sono abituato a vedere le cose fatte bene, ma sono sempre abituato a cercare di migliorare le cose che magari non sono andate. A Arezzo mi sono trovato non bene, benissimo, mi sono trovato veramente bene, sia con la società, con l'allenatore e con i ragazzi, però mi è stato chiesto di provare a mettere in piedi un progetto che possa portare Arezzo, tra virgolette, da periferia, al centro, da Falacarenzo Toscana, prima e poi speriamo anche a livello superiore. Quindi abbiamo iniziato un progetto che aveva già una buonissima base di partenza e abbiamo fatto il primo step e ora il prossimo anno ripartiremo da un livello un po' più alto rispetto a quello che abbiamo avuto quest'anno. Le squadre sono state tutte impegnate, naturalmente anche lì ci sono dei gruppi dove c'è un po' più di talento e quindi hanno fatto risultati migliori, però quello che conta indipendentemente da quanto talento può avere un gruppo conta veramente il fatto di fare un lavoro comune che possa poi praticamente unire dalla prima squadra fino al mini basket e costruire, formare e migliorare un giocatore obiettivo per obiettivo, categoria per categoria. Questo credo sia quello che noi, diciamo, io, i preparatori, gli allenatori, i dirigenti daremo il massimo per poterlo fare. L'obiettivo è portare ovviamente anche più giocatori possibili in prima squadra? L'obiettivo sicuramente è portare più giocatori possibili in prima squadra e magari anche qualcuno a qualche livello superiore.